Ci siamo, dice Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, stavolta si parte davvero, ma la politica resta al suo posto senza intralciare il mio lavoro. Incontro l'interlocutorio e non risolutivo a Palazzo di Città per l'avvertenza a chi m'ambiente a Taranto, il sindaco rassicura ma i sindacati della municipalizzata sono scettici. Inaugurato il centro anti-mobbing e anti-violenza della guida, Taranto ascolto per uomini e donne con un'avvocata e una psicologa. Ed eccoci all'edizione di Taranto e provincia del nostro telegiornale che apriamo con la politica. Dunque Michele Miliano, il governatore di Puglia, è stato a Taranto, all'editorium Tarentum, a sostegno dei suoi consiglieri comunali presi di mira dalla nuova maggioranza di Melucci. Sui giochi rassicura massima disponibilità ma non abbiamo ricevuto ancora i documenti da parte del comitato. Sentiamo già Marco Sanzolino. Avrebbero potuto cedere alle lusinghe del sindaco Melucci e invece hanno deciso di non voltare le spalle al presidente Emiliano. I due rappresentanti del suo movimento politico, CON, in consiglio comunale a Taranto. Bitetti e Fornaro erano pronti a sfiduciare il primo cittadino e di tutta risposta la nuova maggioranza vuole sfiduciare proprio Bitetti, il presidente del consiglio comunale. Dunque Emiliano glielo doveva e ha reso loro il favore e è venuto in città per sostenere la causa di CON. In un'assemblea pubblica ha assicurato che il lavoro per la città continua. Qualcuno dice Bari vuole mettere le mani sulla città. Come risponde? È un'imbecillità assoluta. Fitto approvato, sottoponendo l'amministrazione a una pressione molto forte sui giochi nel Mediterraneo, a organizzare una specie di ribaltone. Presidente, ma sui giochi come si risolvono i dissidi tra governo e regione? Perché ci potrebbero costare la realizzazione dei giochi? Non c'è nessun dissidio. Noi siamo pronti. Se ci sottopongono quello sul quale dobbiamo dare l'intesa, l'intesa può essere data immediatamente, ma vedo che sono passati già diversi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale a meno che mi hanno sottoposto niente ancora. Non vogliamo che l'incapacità del governo di Fitto e di tutti quelli che ci hanno fatto perdere tutto questo tempo si possa scaricare poi sul fallimento dei giochi. Abbiamo subito dei sopprusi gravissimi, abbiamo subito delle violazioni del principio di realtà, ma i soldi la Regione Puglia al nuovo comitato fatto in sfregio al primo li ha dati immediatamente. Il Consiglio Comunale ci provano, ma lei si sente anche politicamente sfiduciato? Assolutamente no, io mi sento abbastanza attento nell'esercitare un ruolo che sento molto dal punto di vista istituzionale. Lo scacco in risposta di Melucci contro il gruppo di Con, questo appare? Ma è quello che mi raccontano in tanti, sì, molti dicono che è una motivazione politica, ma la figura del Presidente del Consiglio resta una figura istituzionale. Adesso parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché sono stati due giorni, gli ultimi trascorsi importanti su questo fronte. Ci siamo, ha detto il Commissario Massimo Ferrarese, per i giochi si parte davvero, ma la politica resti al suo posto, ha ammonito Ferrarese senza intralciare il mio lavoro. Sentiamo il servizio di Laura Milano. Stavolta ci siamo, dice Massimo Ferrarese, dobbiamo recuperare solo il tempo perduto ed agire anche perché questi giochi rappresentano una opportunità irripetibile per questo territorio. La politica però resti al suo posto, dice, senza creare intoppi al mio lavoro. Sarebbe veramente stupido da parte di alcuni creare intoppi e contrapposizioni per quella che è una manifestazione, una possibilità che questo territorio ha e che è irripetibile. 275 milioni per il nostro territorio, per l'impiantistica e per l'organizzazione non accadrà mai più, quantomeno nei prossimi decenni. Io quello che chiedo alla politica, alle istituzioni tutte, potete contrapporvi su altre situazioni, ma non fatelo sui giochi del Mediterraneo, perché i giochi del Mediterraneo sono di tutti e avreste una grande responsabilità qualora intralciaste questo percorso. A me tocca realizzare, sotto l'aspetto tecnico, tutto ciò che sinora non è stato fatto, ribadisce Ferrarese, ma aggiunge, in compenso, i giochi del Mediterraneo lasceranno una importante eredità. L'eredità che lasceranno i giochi del Mediterraneo a Taranto sarà un'eredità forte sul territorio, soprattutto di impiantistica. La nostra idea di progettazione, ma di realizzazione, è quella finalizzata a una gestione sostenibile economicamente e anche socialmente. Quindi immaginare opere che potranno essere al servizio della città, del territorio, dei ragazzi e delle ragazze, anche del tessuto sportivo locale. C'è qualità anche nella proposta complessiva del Master Plan. Siamo anche contenti che proprio in queste ore abbiano sposato la nostra tesi, che bisogna lavorare su progetti in grado di garantire un'eredità significativa per lo sport e per l'economia locale, anche dopo i giochi del Mediterraneo. Questa è l'impostazione, come sapete, che abbiamo dato sin dall'inizio. E adesso ci occupiamo di una spinosa vertenza, quella di Chima Ambiente, ex Amio, l'azienda municipalizzata per l'igiene urbana di Taranto, che si ripercuote poi in qualche modo anche sulla qualità della vita dei cittadini. Ebbene, oggi c'è stato un importantissimo incontro a Palazzo di Città per cercare di risolvere i problemi. Il sindaco ha rassicurato tutti, ma i sindacati restano scettici. Sentiamo. Dopo il presidio di lunedì mattina dinanzi al municipio, come è promesso, si è tenuto il confronto tra sindaco e sigle sindacali che si stanno occupando della spinosa vertenza di Chima Ambiente a Taranto. Parliamo della FP, CGL, Will Transporti, Fit CISL, Fiadel, USB e SIULS. Il primo cittadino ha fornito rassicurazioni rispetto al contratto di servizio, verrà licenziato prima di Pasqua, fa sapere. Ma i sindacati attendono concretezza in Consiglio Comunale. Alla domanda diretta di Sardelli della CGL ha risposto chiaramente che al momento non verrà ritirata la procedura di licenziamento collettivo, 57 persone, su una platea di circa 350 lavoratori. Melucci però ha promesso una variazione di bilancio che vale 2,4 milioni, soldi che serviranno all'adeguamento del CCNL e che Chima attende da anni. Una procedura strampalata, la prima di questo tipo in Italia, commenta in maniera amara Sardelli. Si dice sfiduciato dalla Will anche Sasso, che parla di un incontro inutile, la ripetizione di cose già dette la scorsa estate. Un libro dei sogni, quello descritto dal primo cittadino parlando di una holding e di una quarta società partecipata. Al momento dunque è legittimo parlare di rischio default nella misura del mancato risaramento non ancora attuato. Il Comune forse spera di recuperare liquidità tramite la procedura di affidamento esterno in corso per l'inceneritore. Adesso la cronaca, operazione antidroga congiunta da parte dei carabinieri e della Polizia di Stato. I militari hanno arrestato tre persone, parlano di spaccio domiciliare, ovvero spaccio di sostanze stupefacenti che avviene all'interno delle abitazioni. Tre persone, come dicevamo, sono state arrestate. Un'altra denunciata si tratta di giovani, di età compresa, pensate tra i 17 e i 32 anni. In particolare i carabinieri hanno operato ai quartieri Paolo VI e Tamburi. Ma anche la Polizia ha scoperto che la droga veniva nascosta all'interno dei cassonetti dell'immondizia in Piazza Bettole. Siamo nel centro della città di Taranto. I poliziotti della squadra mobile, i falchi, insospettiti da presunti acquirenti che si dirigevano verso un giovane che stazionava in Piazza Bettole e poi andava a prelevare sotto un cassonetto dell'immondizia della sostanza. Si è trattato di hashish. Poi è quanto hanno appurato i poliziotti. 27 le dosi sequestrate, pari a 32 grammi. C'era anche una quantità di denaro che ovviamente è stata sequestrata. Andiamo avanti. Adesso parliamo dell'inaugurazione della nuova sede Anfas per Diversamente Abili, un punto di incontro importante per i disabili. Tarantini, c'era Laura Milano. Garantire un futuro alle persone con disabilità. Un futuro in cui possano ricevere assistenza e supporto tali da sostituire a quello fornito dai genitori quando questo dovesse venire a mancare. Nasce per questo la legge 112, ovvero la legge sulla dopo di noi, provvedimento a cui l'Anfas Taranto ha dato attuazione realizzando ed inaugurando in via Cagliari 98 la casa di patti. Abbiamo pensato appunto di poter realizzare una casa famiglia che ci desse la possibilità di ospitare quello che dice la legge, almeno 4 persone con disabilità, che debbano rimanere nel loro contesto abituale, nel senso senza essere istituzionalizzati e diventare numeri in strutture megagalattiche dove perdono comunque qualsiasi tipo di autonomia e di dignità umana. Di cosa c'è bisogno al momento perché entri effettivamente in funzione? Per la legge le persone che possono entrare in una struttura del genere devono avere per forza di cosa un progetto di vita indipendente, un progetto di vita indipendente che comporta da parte dell'amministrazione un contributo economico che serve appunto alla gestione di tutta la struttura. E da un'inaugurazione, da un taglio del nastro a un altro, la Will ha inaugurato una sede inedita nel capologo ionico, infatti è un vero e proprio centro anti-mobbing, cioè accoglie donne e uomini che si sentono trattati male all'interno dei propri ambienti di lavoro. C'è stato oggi il taglio del nastro, ma anche la presenza del lavoro degli avvocati e degli psicologi che opereranno all'interno di questo nuovo centro. Le porte della Will di Taranto in piazzale Dante si aprono a chi si sente vittima di mobbing o di violenza sul lavoro, grazie ad uno sportello dedicato che oggi si inaugura con una serie di professioniste, un avvocato, una psicologa, lei è proprio la dirigente, con lei la quale guiderà questo centro. Cosa si potrà fare? Noi ci occuperemo di ascolto di tutte le persone che vivono problematiche, purtroppo oggi attualmente molto presenti, che sono il mobbing dal punto di vista lavorativo, che spesso vede le persone con delle serie problematiche, sia vissute sia a livello di vestazioni, demanzionamenti, carichi di lavoro troppo elevati o addirittura annullati. Quando si delinea un caso di mobbing e come si può agire? Denigrare ovviamente il lavoro e quindi andare a colpire la dignità di colui o colei che opera la sua attività professionale. I rimedi possono essere da un piano strettamente civilistico addirittura fino ad arrivare poi su un piano penalistico, lì dove quelle condotte si trasformano in molestie sul lavoro. Molto spesso questo tema non ha volti perché la gente ha paura di denunciare e invece noi con questo siamo nel mezzo e quindi invitiamo tutte queste persone, tutti questi lavoratori a venire all'interno del centro di ascolto e sollevare quella che purtroppo oggi è divenuta una piaga vera e propria. Chiara Santovito, studentessa del liceo linguistico Aristosseno di Taranto, vince la 28esima borsa di studio Marco Motolese, l'iniziativa organizzata dall'omonima associazione e dal club per l'UNESCO di Taranto. E Chiara Santovito della quinta G del liceo Aristosseno di Taranto, la vincitrice della 28esima edizione del premio borsa di studio Marco Motolese, sono stati i suoi compagni ad individuare in lei quei valori che l'associazione in ricordo del compianto Marco premia tra i giovani. Noi ogni anno diamo una tematica ai ragazzi e alla borsa e quest'anno è stato proprio famiglia e scuola insieme per la crescita dei nostri giovani. Presenti alla cerimonia di conferimento del premio i vertici delle autorità militari del territorio a premiare Chiara, Sua Eccellenza il prefetto di Taranto, Paola Dessì. È davvero un piacere essere qui oggi e trovarci con questi ragazzi per ricordare, ricordare un ragazzo che non c'è più è il modo migliore proprio quello di farlo con i giovani e lasciare anche una testimonianza. L'emozione di questo momento? È indescrivibile, non so spiegarla, è difficile in questo momento, sono emozioni, sicuramente sono felice e sono molto emozionata per tutto questo. Vuoi dedicarlo a qualcuno? Lo dedico a me stessa innanzitutto perché comunque ho raggiunto un traguardo importante e poi a tutti quelli che mi sono stati a fianco, quindi la mia famiglia e in particolare anche i miei amici che hanno individuato in me queste qualità. E adesso il teatro, il teatro amatoriale, quello fatto per passione, teatro tatario nei taburi gremito per la commedia in vernacolo della Compagnia San Giuseppe. Vediamo. Intramontabile teatro in vernacolo, anche stavolta la Compagnia San Giuseppe fa registrare il tutto esaurito, oltre alle risate anche momenti di profonda riflessione su temi di ordinaria vita vissuta, il rapporto con i vicini che improvvisamente si interrompe, poi la consapevolezza che nulla è irrimediabile, basta volerlo e ragionarci su. Bisogna essere predisposti al bene dello stesso titolo della commedia, suggerirlo. L'imbroglio guasta, il giusto a giusta, tradotto in italiano. Due ore di spettacolo in cui il nutrito pubblico si è divertito grazie al cast di una compagnia teatrale che fa tutto per pura passione e continua a strappare applausi e consensi. Antonio Solito, regista e attore, spiega le sfumature del lavoro portato in scena. La commedia è in dialetto tarantino, però noi cerchiamo quando andiamo in scena di dare anche un senso a quella che è la commedia, di non restare solo e esclusivamente sulla comicità, che non guasta mai, che è quello che alla gente piace. Però siamo anche convinti che alla fine se si riesce a lasciare un minimo, oso dire, messaggio positivo alla gente, credo che la gente si alza ancora più soddisfatta. È proprio quello che accade in questa commedia, perché il titolo è un breakwast o giusta giusta. Sta a significare che praticamente se si vive facendo le cose per bene, difficilmente si potranno avere poi problemi nella vita, mentre se si vive in maniera non proprio corretta, prima o poi i nodi verranno al pettine e potrà succedere qualcosa. E prima di chiudere il Tg di Taranto ricordiamo che la fiera pessima di Manduria resterà aperta anche oggi e domani per tutta la giornata, dunque sarà possibile anche per questo weekend visitare la fiera pessima di Manduria. E adesso le notizie da Brindisi a provincia. Tempi duri per lo stabilimento Euroapi di Brindisi, il Partito Democratico chiede di non fermare la produzione. Celebrati nel pomeriggio di oggi a Tuturano i funerali di Gianfranco Conte, il 37enne deceduto in un tragico incidente in fabbrica avvenuto mercoledì nella zona industriale di Brindisi. Il Moulin Rouge nella città adriatica, uno spettacolo speciale con i scene ragazzi dell'associazione Persone Down Brindisina. Il lavoro è primo piano sul Tg dedicato a Brindisi e provincia, parliamo dell'Euroapi, il Partito Democratico come dicevamo nei titoli interviene su questa avvertenza chiedendo di non fermare la produzione, sentiamo sul pezzo Anna Sabonaro. Il momento è complesso per dipendenti e territorio, per un tessuto industriale produttivo in cui la minaccia di chiusure e dismissioni, perdita di posti di lavoro, fughe aziendali, verso isole felici e continua. Ora sotto la lente di ingrandimento c'è Euroapi, azienda farmaceutica che ha deciso di sospendere temporaneamente la produzione nel sito di Brindisi a seguito di presunte criticità nella filiera produttiva. Noi auspichiamo che siano soltanto coincidenze e non siano una conseguenza delle scelte già prese a livello centrale della società Euroapi. Detto questo noi auspichiamo intanto che con gli enti regolatori si chiariscono eventuali situazioni di criticità perché è giusto una filiera soprattutto che tratta principi attivi farmaceutici è importante che ci sia un controllo chiaro di tutta la produzione. Detto questo però allo stesso esempio ci auguriamo e auspichiamo che la produzione non si interrompa, possa continuare a regimi ridotti proprio per evitare che un importante stabilimento possa entrare in crisi. Benvengano le opportune verifiche interne dunque a patto che si continui a produrre, altrimenti sarebbe difficile non avvertire puzza di bruciato anche perché Euroapi è sul mercato e l'interesse di chi vende in genere è quello di proporre ai possibili acquirenti nella fattispecie un gruppo italiano e uno indiano realtà solide ed appetibili, non aziende con problemi interni. Criticità che si spera alla fine della giostra non portino alla solita richiesta di cassa integrazione per i lavoratori, come sempre quelli che pagano il prezzo più alto di partite che altri hanno giocato e perso. Proseguiamo con la cronaca sindacale con il resoconto del congresso che ha tenuto la Wiltec a Brindisi. Davide Cucinelli. Le vertenze del territorio brindisino al centro del Consiglio territoriale della Wiltec Wilty Brindisi che ha visto la partecipazione della segretaria generale nazionale della Wiltec Daniela Piras e del segretario generale della Wilty Puglia Gianni Ricci. La vertenza Euroapi, la vertenza Basel è il futuro della centrale Enel di Cerano tra i temi trattati, una richiesta di risposte non solo a livello locale ma anche regionale e soprattutto nazionale di prospettiva industriale per il territorio pugliese e brindisino. Siamo purtroppo impegnati nell'avvertenza dell'ex Sanofi, oggi Euroapi, un'azienda sulla quale noi abbiamo investito veramente anche dal punto di vista delle relazioni che ha dichiarato la volontà di dismettere il sito brindisino. Una scelta che non riusciamo a comprendere. Sulle circa 150 avvertenze presentate al Mise, più di un terzo interessano il territorio pugliese. Su brindisi c'è la necessità di intervenire, c'è un problema di organizzazione delle aziende sul territorio, della interconnessione tra le aziende che poi provocano anche delle drammaticità. Brindisi, come tutti quanti sappiamo, è un territorio a vocazione industriale. Se ci vengono a mancare aziende consolidate, si citava prima Basell, si citava Euroapi, ma non dimentichiamo anche Enel. Quindi è chiaro che tutte queste aziende che sul territorio vengono a mancare mettono sicuramente a rischio l'intero sistema economico, sociale e soprattutto occupazionale. E purtroppo a Brindisi, quando si parla di lavoro in questo periodo, si deve fare riferimento anche alle tragedie. Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi a Tuturano, i funerali di Gianfranco Conte, il 37enne, deceduto in un tragico incidente in fabbrica, avvenuto mercoledì nella zona industriale di Brindisi. Sentiamo Michele Giurlaro. La procura di Brindisi, a due giorni dalla tragedia, ha deciso di non disporre l'autopsia sul corpo di Gianfranco Conte, l'operaio Brindisino di 37 anni, morto travolto da una bobina all'interno dello stabilimento Gindal. La salma è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali, che si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Tuturano, dove il giovane viveva con la moglie e le due figlie. Sul caso è stato aperto un fascicolo promicidio colposo a carico di ignoti, gli ispettori dello Spesal, supportati dai poliziotti della questura messapica. Hanno eseguito tutte le verifiche necessarie per ricostruire il drammatico episodio e al netto di eventuali responsabilità, comprendere se la morte di Conte si sarebbe potuta evitare. Ci spostiamo adesso a Francavilla Fontana, da dove giungono notizie positive, infatti nuovi agenti di polizia locale in arrivo, come ci racconta Gianni Cannalire. Arrivano i rinforzi al comando di polizia locale di Francavilla Fontana. Da sabato a 16 marzo prenderanno servizio otto agenti a tempo pieno e indeterminato. Le unità sono state pescate dalla gradatoria del Comune di Taranto. Il capologo ionico ha dato per tempo la propria disponibilità a concedere l'utilizzo della gradatoria, trasmettendo quasi due mesi fa all'ente francavillese tutta la documentazione necessaria con l'elenco degli idoni non assunti. I nuovi assunti, uno dei quali riservato a favore del personale riservatario, sempre attinto dalla gradatoria, rappresentano in pratica una piccola boccata d'ossigeno per il comando di polizia locale di Francavilla, vista la forte carenza di personale. Ad oggi la dotazione è costituita da 15 unità. Dal comando di polizia locale più volto è stato fatto presente in questi anni alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute a Palazzo Imperiali la difficoltà nello svolgere questo lavoro per la penura di personale in cui versa questo settore molto delicato, che deve coprire diverse attività oltre ad adempiere a vari compiti assegnati. Il sindaco Antonello Denuzzo ha provato così a colmare un vuoto che purtroppo si trascina storicamente nel comune francavillese. Parliamo adesso di medicina. Ha fatto suscitare non poco interesse a Brindisi la settimana dedicata al glaucoma. Si sono susseguiti numerosi eventi. Vediamo come è andata nel servizio di Davide Cucinelli. Anche il territorio brindisino celebra la settimana del glaucoma, un'occasione di informazione oltre che di prevenzione rivolta a tutti i cittadini, promossa in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, sezione di Brindisi. A fare il punto sui dati del territorio Brindisino, il dottore Ivo Vulpi. Abbiamo una prevalenza di circa 1,5%, mentre quella nazionale è di circa il 2,5%. Però questo riguarda quelli già diagnosticati, non quelli nascosti che non sono ancora diagnosticati perché non fanno prevenzione. Il glaucoma è detto il killer silenzioso della vista, per cui se non si passa da una visita oculistica completa, il killer silenzioso fa il suo lavoro, perché il paziente non se ne può accorgere nei primi momenti, in quanto il campo visivo si restringe dall'esterno verso l'interno e i dieci decimi possono essere tranquillamente mantenuti con un paziente che è gravemente patologico. Gli ospedali sono molto più forniti dei distretti. Certamente io ho fatto domanda di strumentazione più moderna e soprattutto da implementare dal direttore generale al direttore sanitario e sono stati tutti quanti concordi. Adesso stiamo attendendo che la regione ci dia gli strumenti per poter evitare di demandare ai colleghi ospedalieri le diagnosi e dare loro la possibilità di ridurre le liste d'attesa dedicandosi prevalentemente alle terapie. È stata celebrata a Brindisi la giornata del paesaggio con un incontro presso il Polo Bibliomuseale Ribezzo. Brindisi celebra la giornata nazionale del paesaggio 2024, istituita dal Ministero della Cultura con l'Associazione delle Amici dei Musei di Brindisi in collaborazione con il Polo Bibliomuseale di Brindisi e il Museo archeologico Ribezzo. Un'occasione di confronto con le istituzioni e rappresentanti territoriali, con al centro il mare che mette protagonista il territorio e che guarda ovviamente anche all'iniziativa del futuro. Un mare di cose è il titolo di questo convegno, tappa conclusiva ma anche tappa di ripartenza di un percorso avviato con l'occasione della ventesima giornata nazionale che è stata anche la seconda internazionale promossa da FIDAM. Attraverso questo tema del paesaggio vissuto, paesaggio rappresentato, abbiamo declinato tutta una serie di iniziative che si sono svolte sul territorio, finalizzato a evidenziare le tre componenti del paesaggio che sono date dalla conoscenza, dal paradigma del riconoscimento e del riconoscersi comunità. Un ringraziamento particolare voglio riservare ai servizi educativi del Museo Ribezzo per l'attenzione paesaggistica che hanno voluto manifestare all'adobbo floreale che richiama il paesaggio mediterraneo e quelle che vedete sono delle talee di macchia mediterranea finalizzate alla riproduzione. A Brindisi è uno spettacolo speciale, quello che ha visto in scena i ragazzi dell'associazione persone down Brindisina. Vediamo come è andata. Lo spettacolo del Mura e Rouge sul palco del nuovo Teatro Verdi di Brindisi con degli attori speciali e ragazzi dell'associazione italiana persone down che come ogni anno si ritrovano tramite la musica, la danza e la recitazione a dare un messaggio di inclusione, l'amore al centro di questo spettacolo che mette al centro un percorso che questi ragazzi svolgono quotidianamente di crescita ma soprattutto di inclusione sociale. È uno spettacolo insomma nato dall'idea di voler abbattere gli stereotipi che la società ha su questi ragazzi. Volevamo soffermarci sul concetto di amore, sensualità e passione facendo capire insomma che questi ragazzi sono in grado anche di amare ed essere sensuali senza avere sempre l'idea che sono degli eterni bambini. Sentiamo alcuni dei protagonisti. Cosa farà in scena? Sono l'amico di Cristian, argentino andoletico che aiuto Cristian per conquistare Satinia. Satinia. Questo bellissimo costume cosa vedremo? Un bello che è di alza del ventere. Ti diverte preparare lo spettacolo? Sì, moltissimo. Finisce così il Tg dedicato a Brindisi e Provincia ma l'informazione di Antena Sud prosegue con le news dal Salento da Lecce. Il Movimento 5 Stelle correrà con Salvemini, occorre bloccare il centrodestra dicono in conferenza stampa. A Campi Salentini è stata intitolata la piazza Nicola IV, ex sindaco e presidente della regione Puglia. Si è tenuta presso il museo Sicismondo Castro Mediano di Lecce l'Overture narrativa uno sguardo dentro il lato oscuro della luna, la storia dei Pink Floyd raccontata da quattro appassionati. La cronaca politico-amministrativa apre l'edizione di Lecce e Provincia del nostro telegiornale perché c'è stata una conferenza stampa dei vertici del Movimento 5 Stelle e Salentino che hanno confermato che correranno con il candidato sindaco uscente Carlo Salvemini, occorre bloccare, hanno detto in conferenza stampa, il centrodestra. Sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Il Movimento 5 Stelle correrà con Salvemini per non permettere alla destra di tornare a guidare Lecce. Questo avrebbe motivato la scelta del Movimento a siglare un accordo politico con Salvemini il ritorno della Polibortone e una possibilità assolutamente da evitare, dice il senatore Donno, durante la conferenza stampa alla presenza dei vertici di partito. Onorevole, avete detto che in questi anni avete contrastato e non condiviso il percorso politico per la città del sindaco Carlo Salvemini. Pensate che adesso ci possa essere una metamorfosi, visto che la compagine rimane bene o male quella, oppure è più il timore di rimanere isolate che vi porta ad appoggiarlo? No, no, come ho detto alcune cose ovviamente le abbiamo condivise, anche perché diciamo nel campo progressista molti temi ci legano o comunque ci vedono vicini, parlo per esempio dell'ambiente, della legalità. Su alcune cose ovviamente che non abbiamo condiviso, su quelle noi abbiamo lavorato e abbiamo chiesto al sindaco Salvemini di darci la possibilità di poter contribuire nel governo della città per poter portare avanti questi temi e migliorare quello che magari in questi anni non è stato fatto secondo noi ovviamente come si doveva fare. Però oggi noi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità e a provare ad amministrare questa città. Intanto nelle scorse ore un esponente di spicco del Movimento, Alberto Sicurella, presente anche in conferenza stampa, ha annunciato la sua corsa a capo di una collezione formata da due liste civiche, ma il coordinatore provinciale, Junio Romano, non vuol sentir parlare di spaccatura. Il Movimento è qui e l'abbiamo già detto, quindi che ci siano degli iscritti del Movimento che hanno fatto una scelta di altro tipo evidentemente non ci compete e non sono io a dover fare dei commenti. Si commentano da sole queste cose evidentemente. Quindi non c'è in realtà una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle? Il Movimento è qui, quindi io questa spaccatura effettivamente non la vedrei. Nelle prossime edizioni vi proporremo anche le dichiarazioni del candidato sindaco di Lecce, a Lecce Alberto Siculella, il candidato sindaco dissidente. Adesso andiamo a Campi Salentina dove c'è stata l'intitolazione della piazza centrale a Nicola Quarta che è stato anche un importante rappresentante della regione Puglia. Vediamo il servizio. La città di Campi Salentina ha omaggiato Nicola Quarta, ex sindaco e presidente della regione Puglia, con l'intitolazione dell'ex piazza Garibaldi all'onorevole Salentino, un sognatore che ha fatto della politica il suo impegno principale e che non è stato dimenticato dalla sua città, continuando a vivere nel cuore e nell'impegno di ognuno, come ha spiegato il sindaco Alfredo Fina nel corso del suo discorso, che ha preceduto quelli del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Per noi è un momento importante, un momento non di commemorazione ma di festa. È un momento che abbiamo aspettato tanto perché l'onorevole Quarta era figlio di questa comunità, ma figlio della nostra terra, della nostra Puglia, persona importante anche a livello nazionale. grande innovatore, grande mediatore. Nicola Quarta è stato il presidente della regione Puglia in un momento di fondazione di questo ente, che oggi è complesso, grande come una nazione. Si occupa di tutti gli aspetti della vita dei pugliesi e senza queste radici profonde, come quella di Nini Quarta, la Puglia probabilmente non avrebbe avuto anche questa fioritura così importante degli ultimi 20 anni. Prima la carriera prefettizia, poi l'impegno politico che lo ha portato ad essere inizialmente assessore e presidente della regione Puglia, infine deputato della Repubblica per due legislature a partire dal 1978. L'onorevole Quarta era innanzitutto un padre premuroso e una persona amata, soprattutto dalla sua famiglia, che da vicino ha potuto apprezzarne il carisma e la grandezza d'animo. Il ricordo che io porto è il rapporto stretto, strettissimo, che ha legato Nicola Quarta con Campi Salentina e questo traguardo è il degno riconoscimento per quello che l'uomo politico ha fatto per il comune di Campi Salentina. E adesso da Campi Salentina ci spostiamo a Supersano, dove esperti a confronto sulla valorizzazione di un bosco, il cosiddetto Parco della Serra, sentiamo ancora Francesco Schiavano. Salvaguardare e valorizzare il Parco della Serra di Supersano, partendo dalla conoscenza della biodiversità di quest'ultimo, per rendere i cittadini consapevoli della sua importanza e custodi del suo patrimonio inestimabile. Con questa finalità nel comune Salentino si è svolto un convegno organizzato dall'Università della Terza Età di Supersano, con la collaborazione della sezione pugliese della Società Botanica Italiana. All'evento hanno preso parte biologi, agronomi ed esperti del settore, che nel corso dei loro interventi hanno sottolineato come in un momento di crisi ambientale del Salento, causata dall'axilella che ha comportato la morte di decine di migliaia di ulivi, con la conseguente riduzione dello scambio ossigeno-anidride carbonica, il Parco della Serra assume un ruolo di importanza ambientale rilevante per tutto il territorio circostante. Noi partiamo dal Bosco di Brevedere, dalla storia del Bosco di Brevedere, che è scomparso per mano dell'uomo cent'anni fa, che l'ha tagliato, l'ha bruciato, e quindi di qua vogliamo cominciare a fare, a innestare un discorso di valorizzazione dell'attuale pineta della Serra di Supersano. A partire proprio dal convegno, l'intenzione è quella di attuare per il futuro un progetto condiviso sull'ecoturismo, applicato a tutta la zona di Supersano, colma di ricchezze storiche che evidenzi opportunità, strategie e strumenti per uno sfruttamento sostenibile. I relatori hanno proprio questo compito di mettere in evidenza una prospettiva, una possibilità di sviluppo, di utilizzazione del nostro bene culturale o ambientale che, ahimè, sta andando a rotoli un po' perché è trascurato, sinceramente. E prosegue il nostro viaggio nella provincia salentina, quindi lasciamo Supersano per andare a Guagnano, dove nel corso di un interessante incontro pubblico organizzato dal GAL Terra d'Arneo è stato annunciato il riconoscimento dell'uva cardinal come PAT. Sentiamo l'Ori Larva. Dopo aver acceso un faro sull'attività bivaistica ornamentale, sui sistemi di qualità e promozione delle filiere corte, attraverso metodi innovativi di tracciamento ed etichettatura e sullo studio dei nuovi strumenti di commercializzazione e di accesso ai mercati, il GAL Terra d'Arneo ha organizzato un incontro presso il laboratorio dell'identità rurale di Guagnano per presentare l'ambito riconoscimento per l'agricoltura del territorio, quale l'inserimento dell'uva cardinal all'interno dei prodotti agroalimentari della tradizione. Un PAT così importante di riconoscimento grazie alla Regione Puglia, all'assessorato all'agroalimentario di Donato Penta Stuglia che ci consente di mettere a valore un prodotto che sembrava quasi marginale e che noi invece mettiamo di nuovo in corsa ma in una corsa sfrenata che dovrà vedere la cooperazione di tutti i cittadini e di tutta la comunità di Guagnano della Terra d'Arneo per valorizzarla ancora di più in forte connessione con il territorio. Un passo importante è stato fatto per far uscire dall'anonimato l'uva cardinal attraverso non solo una produzione mirata ma anche con l'attivazione di laboratori di trasformazione e poi con la commercializzazione. Questo riconoscimento di PAT, quindi come prodotto agroalimentario tradizionale, finalmente inseriti in un elenco ministeriale in collaborazione con la Regione Puglia, ci restituisce valore a un prodotto che ormai è diventato di nicchia. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di sistemi agroalimentari locali, salutari, sostenibili e diversificati perché non ci può essere sviluppo senza agricoltura. È il momento per i prodotti italiani, ricondotti fortemente ai territori e sono riconducibili a metodi di produzione che sono ovviamente di alta qualità. E adesso ad Acquarica Presicce dove si parla del nuovo stemma comunale. Scopriamolo insieme. È giunto a termine il processo partecipativo rivolto a cittadini, istituti scolastici e associazioni del territorio per realizzare il nuovo blasone del comune di Presicce Acquarica, nato dalla fusione delle due comunità nel 2019. Numerose le storie, i luoghi che uniscono, le foto, i testi e le immagini che sono state condivise nel corso degli incontri, organizzati dall'amministrazione comunale in questi mesi e che sono stati caricati e messi a disposizione di tutti su una mappa digitale. Da questa esperienza ci portiamo dietro un bagaglio di esperienze bellissime, soprattutto nelle scuole, ma poi anche una campagna straordinaria e inedita di ascolto e di partecipazione realizzata anche attraverso una piattaforma online. Lo stemma è un adempimento che abbiamo il dovere di realizzare, ma è anche un'occasione di ritrovarsi, di creare maggiore unità intorno ai tratti identitari e alla storia e anche al futuro del nuovo comune. Dagli elementi raccolti ora i tecnici incaricati potranno attingere per progettare poi lo stemma definitivo del comune di Presicce Acquarica. In quest'ultima fase gli esperti sono al lavoro per condividere con noi alcune proposte che poi verranno votate in Consiglio Comunale dai consiglieri. Noi abbiamo anche ricevuto 100 proposte, 50 solo dai ragazzi delle seconde e delle terze classi della scuola media, quindi un ottimo risultato di partecipazione. E adesso riflettori puntati sull'USUFI che ha celebrato l'inaugurazione dell'anno 2023-2024. Democrazia e disuguaglianze, il coraggio di osare. E' questo il titolo della prolusione di Clara Mattei, associato di Economia alla New School for Social Research di New York per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 della Scuola Superiore ISUFI dell'Università del Salento. Il nostro obiettivo è quello di mettere le nostre allievi e i nostri allievi nelle migliori condizioni di formarsi con un respiro fortemente internazionale. Formarli, mettendoli all'interno di queste reti tra le maggiori riconosciute a livello internazionale ma radicandoli fortemente anche alla nostra terra in modo tale che possano essere risorse importantissime per lo sviluppo sociale e civile prima ancora che economico. Inaugurazione di l'USUFI a Lecce, qual è questo coraggio di osare? È il coraggio di utilizzare il sapere in chiave critica, in chiave trasformativa per cercare davvero di dare qualcosa alla nostra società e quindi non pensare al sapere soltanto in termini tecnici per omologarsi ma davvero invece per pensare oltre le solite diciamo scatole chiuse in cui la nostra mente è spesso imprigionata. E ai ragazzi di oggi è facile far arrivare questo messaggio? Io credo che ci sia tantissima sete di sapere soprattutto perché le contraddizioni della nostra società sono molto più evidenti e quindi la curiosità è molta e questo mi fa davvero piacere e credo che è per questo che scuole come queste, come l'USUFI debbano continuare a giocare un ruolo importante nell'educazione italiana. L'obiettivo è la creazione di una rete di partenariato per il lavoro attraverso una collaborazione sulle tematiche del lavoro nei settori prioritari del territorio solentino e su nuove attività da realizzare in futuro con il fine del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta nel mercato. Il ruolo della provincia quindi sarà quello di coordinare e dare impulso alle varie attività previste. La crescita di livelli occupazionali abbiamo sempre detto che costituiscono l'ossatura di un territorio che lavora per la crescita sociale per dare la possibilità ai nostri ragazzi di trovare una dignità nella loro esistenza ma anche di mettere a disposizione a frutto le competenze che hanno. La provincia nonostante i limiti della riforma si pone al vertice di una rete che costruisce sistemi di interazione e di dialogo fra le istituzioni volti alla possibilità di costruire opportunità per i ragazzi del nostro territorio. Questo stiamo facendo e i risultati di questo protocollo sono evidenti e soprattutto costituiscono un passo in avanti rispetto all'offerta che dal territorio stesso si prodiga a ricercare nuove competenze. Il protocollo mette insieme gli enti territoriali che hanno creduto in questo progetto a partire dalla regione con Galattico, noi abbiamo costruito una rete che va dall'ARPAL che tiene insieme la Camera di Commercio, Confindustria, la rete degli operatori dei settori turistico e non solo, diciamo di maggiore sviluppo degli ultimi anni e che costruisce delle informazioni rispetto alle opportunità ma anche un confronto con i ragazzi che hanno delle competenze e che vanno incontro al mondo del lavoro. Al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce c'è stata l'ouverture narrativa dal titolo Uno sguardo dentro il lato oscuro della luna, la storia dei Pink Floyd. Per apprezzare ancora di più i Pink Floyd è indispensabile conoscere la storia del gruppo e della loro musica suonata ovunque, pure innovativa, di massa e pure d'elite e tratti di un fenomeno sociale che ha influenzato tutta la musica degli ultimi 60 anni. Ecco quindi l'ouverture narrativa voluta dalla provincia di Lecce e raccontata da quattro fluidiani. La provincia di Lecce ha sposato questo progetto e che nel suo caso poi la tocca in maniera anche personale? Mi tocca in maniera personale perché da 50 anni, da quando è uscito The Dark Side of the Moon, 51 anni fa per la precisione, sono più che un appassionato dei Pink Floyd come i Floydiani che stasera presenteranno con me la vita di questo gruppo che non ha paragoni con altri gruppi. Accanto a questo la cosa più importante è però il concerto che verrà effettuato il 23 di marzo al Politeamo, un evento unico in quanto la suite Atomart Madar non è realizzabile se non con ottoni, coro e orchestra. Cosa vuol dire essere Floydiani? Floydiani è una missione, è qualcosa che ti colpisce, nel mio caso ero in tredicenne, è entrato nel mondo del progressivo e il rock progressivo mi ha accompagnato per mano lungo tutta la strada fino ad oggi, fino a questo evento e spero che continui ad accompagnarmi nel futuro. Il TG dedicato a Lecce e provincia ha curato la parte tecnica Gianfranco Medillo con la collaborazione di Francesco Lozito, grazie a voi da casa per l'attenzione e arrivederci. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie a tutti.